Una cosa però, permettimi una cosa, qui la politica dovrebbe difendersi perché ci sono fior di costituzionalisti, Cassese, Ainis oggi, che ha intervistato Telese e Ainis, che dicono che non ci sono i presupposti perché Conte si prolunghi lo stato d'emergenza. Allora, sulla scorza di questi grandi costituzionalisti, un PM potrebbe per esempio indagare Conte per abuso di potere, per esempio, no? E' interessante questa provocazione. Pietro, è interessante, allora la giriamo subito.